13 fermi, 61 denunciati, 4 tonnellate di cocaina che avrebbero fruttato 800 milioni di euro. E il bilancio dell'operazione Puerto Liberado, portata a termine questa mattina dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria al porto di Gioia Tauro. L'accusa è di illecita importazione in Italia attraverso l'infrastruttura regina di rilevanti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America e diretti in tutta Europa. I reati contestati ai fermati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Affare da palo, spartiacque, dirsi voglia per eludere i controlli della polizia, un gruppo di dipendenti dello stesso porto che garantivano la fuoriuscita della cocaina e la consegna per la diffusione sul mercato. Cinque i dipendenti coinvolti in questa operazione che ha portato al fermo di dieci componenti di questa associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Si tratta di cinque dipendenti di società o cooperative che operano sul porto. Questo è ancora una volta dimostrazione che la sostanza stupefacente non può non entrare senza che vi sia una base stabile che consenta l'accesso e l'importazione. E' stata contestata l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Questo è il quadro che è emerso dalle attività investigative fondate come sempre su intercettazioni telefoniche per lo più e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Questa operazione evidenzia come vi sia una base stabile nel porto di Gioia Tauro ma era chiaro e lo si supponeva da tempo e d'altro canto gli arresti che sono stati fatti anche in passato lo dimostravano. Oggi si è colpita un'associazione che operava sul porto e diciamo però che il traffico internazionale di stupefacenti riguardante specificamente la cocaina è nel monopolio dell'andrangheta e l'andrangheta ha dei propri riferimenti che stabilmente risiedono in Colombia o in altri paesi sudamericani. Hanno in quei luoghi fazzende, hanno mogli, hanno famiglia, cioè sono persone che come i colombiani operano per l'esportazione. Una parte di quell'esportazione finisce per essere importata attraverso il porto di Gioia Tauro.